Volevo comunicare che in accordo con tutti i punti vendita Conad di Fano si è deciso per domenica mattina di tenere aperto Spazio Conad Fano presso Fano Center. Questo per cercare di dare un servizio ai cittadini visto le lunghe attese che si stanno creando al di fuori dei negozi. Mi raccomando venite a fare la spesa una persona per famiglia e cercate di mantenere le distanze di sicurezza. Grazie per la collaborazione.